finalmente è arrivata l'applicazione che tanto cercavo ciao a tutti amici di Oltro Sguardo, benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio parlare di Procreate Dreams è stata presentata a novembre un'applicazione che possiamo dire ancora fresca recente, proprio nuova che è veramente spettacolare oggi non è un tutorial ma vi spiegherò a breve quello che sarà questo video ma come sempre non posso non dirvi di iscrivervi al canale di attivare la campanellina ogni volta che Oltro Sguardo inserisce un nuovo video mi raccomando fatelo perché i video sono tantissimi così non ve li perdete Procreate Dreams è un'applicazione di animazione 2D un'applicazione che unisce disegno e animazione insieme sapete voi quanto amo animazione? il stop motion, la creazione di filmati, di animazione, cartone animati, quella roba lì e questa applicazione farà il caso mio infatti su questa applicazione non sarà l'ultimo video sicuramente in futuro usciranno un sacco di video in questo video, mentre io parlerò che vi farò un attimo, vi spiegherò qualcosina vi farò vedere qualche immagine di questa applicazione qualche ripresina, qualcosa che però non vi preoccupate uscirà presto, o meglio non presto più là, ecco un'applicazione dove vi farò un breve tutorial o comunque vi spiegherò un pochettino quello che è Procreate Dreams ma più là perché chiaramente adesso anch'io sto studiando questa applicazione perché non è un'applicazione comunque che è facilissima lo dico già non perché voglio spaventarvi ma Procreate Dreams è un'applicazione di animazione 2D come ho già detto dove unisce il disegno quindi il disegno più il lavoro in timeline come tutti i programmi di montaggio video e questa applicazione è un'applicazione a pagamento ma pagamento che paghi una volta sola e basta e voi sapete non parlo mai di prezzi ma basta andare su App Store e la trovate chiaramente è un'applicazione che richiede molto impegno perché stiamo parlando di un'applicazione professionale questo non significa per chi tiene un iPad e chiaramente per chi tiene un iPad con l'Apple Pencil perché ragazzi serve questa se avete un iPad e non avete questa quindi l'Apple Pencil non ve ne fate nulla perché appunto questo programma unisce disegno più animazione si possono importare poi video si possono importare foto animarli si può fare di tutto ma c'è sempre bisogno dell'amata penna Procreate Dreams è un'applicazione che dai perché ho visto poi il keynote della presentazione di quest'app che è del potenziale da tanto perché puoi dover creare dei veri e propri cartoni animati chiaramente in 2D perché è il 2D che supporta dove puoi animare creare e aggiungere chiaramente è un'applicazione sempre gestita dai frame quindi gestita dai spostamenti ci sono un sacco un sacco di cose da capire e io non nego che io ancora molte ne devo capire perché io è da poco che ho questa applicazione non l'ho comprata subito perché ho voluto un po' studiarmela poi l'ho comprata qualche settimana fa mentre sto girando questo video io non so quando vedrete questo video però quando ho girato questo quando sto girando in questo momento che sto girando questo video questa applicazione io la tengo già da una settimana circa quindi quindi quello che voglio dire è che è un'applicazione che richiede molto impegno sicuramente c'è da studiare bisogna guardarsi tutorial bisogna capire bisogna leggere quindi mi raccomando se siete interessati in questo mondo meglio di questa applicazione non trovate sicuramente ne esistono altre di questo di questo diciamo per questo ambiente animazione ma non perché è nuova e le altre vanno tutte diciamo in secondo piano ma è perché questa ha un'ottima interfaccia ha un'ottima un'ottima gestione dei delle impostazioni ed è fatta bene oltretutto può create dreams dico anche per chi magari non sa di cosa sto parlando ma può create dreams è un'applicazione dove si possono scegliere tanti tipi di fogli di lavoro quindi si può anche lavorare su un foglio per fare una storia un tiktok quindi si può anche lavorare in verticale o in orizzontale o avere un ampio sfermo se bisogna farlo per uno schermo più grande più piccolo quindi ha davvero del potenziale ma in futuro non usciranno sicuramente altri e se spero di riuscire a farci qualcosina di carino uscirà anche un video dove mostrano qualche animazione quindi sicuramente non mancheranno altri video su questo argomento e soprattutto su questa applicazione io vi saluto al prossimo video con oltre lo sguardo